Sicurezza stradale e bilancio. Bilancio e sicurezza stradale. Sembrano argomenti che nulla hanno a che vedere tra loro, eppure c'è una stretta interconnessione, perché senza soldi non possono essere eseguite opere di riqualificazione e arredo urbano, finalizzate anche e soprattutto alla sicurezza di pedoni e automobilisti. E quanto avviene a Brindisi, o meglio nelle zone più periferiche, poco attenzionate dagli amministratori locali? Precisamente sono ancora via Le Caduti di Via Fani e via Palmiro Togliatti, ingresso della città, le strade poco sicure, insistenti nel rione Sant'Elia. L'illuminazione derivante dai pali della luce pare essere davvero scarsa, sia per la poca intensità e sia perché alcune lampadine sono coperte dagli alti alberi che si ergono lungo le due strade. È una condizione che costituisce pericolo sia per gli automobilisti, ma anche per i pedoni che possono inciampare nella disastrosa pavimentazione, oltre al fatto che un'adeguata illuminazione pubblica garantirebbe maggiore sicurezza anche in caso di malintenzionati. Inoltre, come ben si ricorderà, proprio in via Palmiro Togliatti lo scorso settembre un pirata della strada investì un uomo di 82 anni causandone la morte, nei pressi del tribunale dove insiste, tra l'altro, una fermata di autobus anch'esta poco illuminata. Forse se ci fosse stata un'adeguata illuminazione pubblica e soprattutto dossi artificiali per evitare lo sfrecciare delle auto, probabilmente ciò si sarebbe potuto evitare. Ed ancora poco prima del luogo dell'incidente vi è un attraversamento pedonale ma totalmente scolorito dall'usura e per questo per niente visibile. Ed è in questo caso che entra in gioco il bilancio del comune, praticamente in rosso. Infatti non possono essere spesi molti fondi da destinare alla manutenzione delle vie ammalorate o all'installazione di sistemi di sicurezza stradale, causando ovviamente disagio alla circolazione pedonale e automobilistica. Ma quando in ballo c'è la sicurezza dei cittadini bisogna assolutamente individuare soluzioni alternative come ad esempio le somme derivanti dalle contravvenzioni per violazione del codice della strada. Insomma, come dice il vecchio detto, volere è potere. Sarà compito dell'attuale amministrazione attuarlo, cambiando il trend degli ultimi anni.